I carabinieri della stazione di Fano hanno denunciato a piedi libero cinque giovanissimi tra i 18 e i 23 anni, ritenuti responsabili di un grave pestaggio avvenuto a Fano, nella zona Lido, ai danni di un diciottene del posto. I fatti risalgono alla notte tra il 18 e il 19 giugno, intorno a luna di notte, quando un ragazzo è stato improvvisamente bloccato da un giovane. Questo sconosciuto, che era in evidente stato di alterazione e si trovava in compagnia di altri ragazzi, accusava la vittima di avergli calpestato una sigaretta, cadutali accidentalmente. In realtà era solo un pretesto per attaccare Briga. Accortosi delle intenzioni, la vittima ha cercato di allontanarlo, ma in quel frangente uno degli amici gli ha sferrato un pugno in volto. Inutile il suo tentativo di fuga, perché il resto della comitiva, almeno 7-8 persone, si è avventato contro l'inerme diciottenne, colpendolo violentemente con calci e pugni. La vittima, nonostante le ferite, è tornata a casa, salvo poi rendersi conto. Dopo due giorni, che la gravità delle ferite imponeva le cure del pronto soccorso. Dopo la denuncia, i carabinieri hanno dovuto eseguire un duro lavoro di identificazione dei responsabili. Infatti, nessuno degli aggressori era conosciuto dalla vittima. Tuttavia, l'analisi delle numerose immagini registrate dalle telecamere pubbliche e private, integrate dalle dichiarazioni di vari testimoni, hanno consentito ai militari di identificare i cinque autori dell'aggressione, tutti i ragazzi tra i 18 e i 23 anni. Gli stessi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro per lesioni personali aggravate in concorso. A loro carico è stata proposta la misura del Daspo Urbano, che ha la finalità di vietarli l'accesso per un tempo determinato alle zone del Lido e dell'Arzilla di Fano, maggiormente interessate dalla movida giovanile.